Buongiorno a tutti, Roberto Puddu, Sommi Immobiliare, siamo nell'attico di uno splendido appartamento che siamo venuti a vedere a Cagliari, siamo quasi al centro di Cagliari, quello che volevo farvi vedere è il panorama spettacolare che si vede dall'ultimo piano. Beh, mi auguro che possa diventare interessante per ognuno di voi, questo che potete vedere in fondo e buon cammino. E questo è il panorama. Ciao a tutti, buona giornata dall'alto di Cagliari.